Un giorno prima della Parigi-Rouvet si disputerà nella provincia dell'Ainô, in Belgio, il 47esimo Grand Prix Pino Cerami. Questa corsa è dedicata al siciliano di Mister Bianco, che è stato naturalizzato belga, nel 1956. La corsa misurerà 200 km e tondi e presenterà 6 GPM. Il primo sarà Lorde-Mont al chilometro 40, che sarà seguito dalle Plaquette, dopo 2 km, e da Lodge-Busemont, dopo 7. Poi al chilometro 70 si dovrà superare lo strappo di Burt. Infine le ultime due colt saranno rispettivamente quella di De Vierges e quella d'Autre-Pesse. Il finale sarà inserito in un circuito di 13 km da ripetere per 3 volte. L'ultimo chilometro presenterà una certa pendenza, che non si potrà sottovalutare, soprattutto in caso di volata. In questa corsa, in cui abbiamo triunfato per 6 volte, l'ultima nel 2007, con Luca Solari, parteciperanno due team del World Tour, ossia le due berghe Lotto Belisol e Omega Pharma Quick-Step. Poi ci saranno 7 squadre professional, cioè le due di casa, la Wonti e la Top Sport. Le nostre tre, la Neri Sottoli, l'Androni Venezuele e la Bardiani CSF, la Sudafricana MTN Cubeca e la Russa Rusvelo. In fine completeranno la Starlist altri 11 team Continental, tra cui l'italiana Area Zero. Dunque, un'altra avventura nordica sta per incominciare e ci preparerà nel migliore dei modi per la Parigi Rouvet.